La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma conserva uno dei fondi più ricchi e completi tra quelli degli autori del Novecento. Si tratta del fondo Il Samorante, con segnatura a Vittorio Emanuele 1618-1622, nel quale sono raccolti tutti i manoscritti e i dati lo scritti, molto spesso con annotazioni autografe e dell'autrice. Sono carte a sé note studiate che consentono di ricostruire la genesi compositiva dei romanzi morantiani, Menzogne e sortileggio, L'isola di Arturo, Il mondo salvato dei ragazzini, La storia, Araceli, mettendo in luce l'iter gestazionale spesso travagliato e complesso. A queste testimonianze, più segnatamente letterarie, si affiancano sempre presso la Biblioteca Centrale Romana i documenti dell'archivio del Samorante, che rappresentano un insieme eterogeneo di materiali, dal ritaglio di giornale alla scrittura autografa. Proprio tra questa disparata congeri di documenti, sono rintracciabili reperti singolari ed eccentrici, che contribuiscono, quasi piccole ma significative scoperte, ad illustrare la prestoria compositiva delle opere più importanti, come a mettere meglio a fuoco la personalità poliedrica dell'autrice. All'interno dell'archivio è ad esempio reperibile un manipolo di testi che si soffermano su questioni politiche e sociali contemporanee ad Elsa. In particolare, colpisce, per il quoziente squisitamente militante, una lettera firmata da Elsa Morante, indirizzata ai giudici del processo contro Aldo Baibranti, che venne pubblicata su Paese Sera il 17 luglio 1968. Questo intervento ci riporta ad un caso, oggi forse dimenticato, che aveva fatto invece un processo contro la cultura e la libertà sessuale, per il quale si mobilitarono intellettuali e scrittori. Aldo Baibranti, in base all'articolo 603 del Codice Rocco, era stato riconosciuto colpevole di plagio, con una condanna a nove anni di reclusione, considerato reo, secondo la Corte, di aver costretto Giovanni Sanfratello, suo compagno sentimentale, al proprio potere, riducendolo in totale stato di soggezione. Braibanti, eclettica figura di poeta letterato, sceneggiatore e regista, artista figurativo e plastico, incarnava un modello di intellettuale dalla vita bohemienne, fuori dagli schemi e dalle convenzioni sociali e culturali del suo tempo. Difficile era in quegli anni anche accettare il suo orientamento omosessuale, che fu il motivo principale per il quale i familiari di Giovanni Sanfratello intentarono l'azione giudiziaria. Contro Braibanti si scatenò la rappresaglia del sociale, la vendetta delle masse, ha scritto Carmelo Bene. Era l'intellettuale migliore che avesse l'Italia all'epoca. Aveva interessi pittorici, letterari, musicali. Profeta in anticipo di trent'anni. Fu uno dei primi a condannare il consumismo. I diversi allora in Italia si contavano, lui, Pasolini, pochi altri. E fu proprio Pierpaolo Pasolini a caratterizzarlo per la sua indole singolare ed eccentrica. Se c'è un uomo mite, nel senso più puro del termine, questo è Braibanti. Egli non si è appoggiato infatti mai a niente e a nessuno. Non ha chiesto preteso mai nulla. Qual è dunque delitto che gli ha commesso per essere condannato attraverso l'accusa pretestuale di plagio? Il suo delitto è stata la sua debolezza, ma questa debolezza gli se l'è scelta e voluta, rifiutando qualsiasi forma di autorità. Autorità che, come autore, in qualche modo, gli sarebbe provenuta naturalmente, solo che egli avesse accettato, anche in misura minima, una qualsiasi idea comune di intellettuale, o quella comunista, o quella borghese, o quella cattolica, o quella semplicemente letteraria. Invece egli si è rifiutato di identificarsi con qualsiasi di queste figure, infine buffonesche, di intellettuale. L'intervento di Il Samorante sulle colonne di Paese Sera si presenta come un appello ai ministri della giustizia, tutto proiettato verso il futuro processuale della vicenda, che si concluderà in Cassazione con la combinazione di una pena di quattro anni meno due, scontati a Braibanti, per il merito di aver partecipato alla Resistenza. Lungi dal proporsi come sconsolata lamentazio, ripiegata su una sterile negatività, la lettera di Elsa ha un'evidente intenzione militante, ed è animata dalla piena fiducia di poter intervenire effettivamente sulla storia in fieri, a lei contemporanea, sugli avvenimenti del tempo presente, con un'aspettativa che verrà effettivamente confermata, almeno in parte, dalla riduzione della pena detentiva, proclamata nella sentenza definitiva e, nella lunga distanza, dall'abrogazione del reato di plagio da parte della Corte Costituzionale nel 1981. In questa volontà di prendere la parola Elsa non è sola. Con lei hanno già sottoscritto una prima lettera, subito dopo l'arresto di Braibanti, Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Carlo Levi, Cesare Zavattini, Nanni Balestrini, Laura Betti e Marco Bellocchio. Partecipando alle udienze del processo ha conosciuto Grazia Cherchi e Piergiorgio Bellocchio, ai quali la legherà una lunghissima amicizia. Dacia Maraini, come lei, firma un articolo di appoggio a Braibanti, che esce sempre su Paese Sera proprio il giorno prima della pubblicazione della lettera della Morante. L'iterredazionale della lettera, attestato da quattro testimonianze, due manoscritti e due dattiloscritti con correzioni, conferma il modus operandi usuale dell'autrice, segnato dall'acribia e da un ritmo ponderato. Scrivo sempre a mano, tranne qualche scrittura frettolosa e procedo molto lentamente e solo quando il periodo mi è venuto ben chiuso e calettato e le parole sono quelle che debbono essere e non altre suggerite dalla fretta, solo allora passo all'altro periodo e lo stesso faccio con i capitoli. La frase con la quale Elsa si inserisce in prima persona nell'argomentazione della lettera, mi chiamo Morante Elsa, italiana, di professione poeta, tanto incisiva per la paratassi delle proposizioni nominali da dare il titolo ad una fortunata monografia di Marco Bardini del 1999, nella redazione manoscritta iniziale era collocata nel palagrafo d'esordio, dunque in una posizione incipitaria di rilievo. Lo slittamento al centro del testo avviene già allo stadio del secondo manoscritto e sembra legarsi ad un intervento di focalizzazione da parte dell'autrice su quella che possiamo riconoscere come la metafora forse più emblematica della lettera. Se nel manoscritto 1 Elsa afferma che la morale corrente è infetta, nel manoscritto 2 l'infezione si è già evoluta in cancrena e il soggetto del quale viene predicata la malattia diventa la società stessa che oggi più che mai si conferma come un aggregato di cellule cadaveriche senza nessun legame vivo col corpo reale del mondo. Risiede in questo scollamento il punto di frattura da sanare se vogliamo riappropriarci delle nostre esistenze rinunciando con coraggio e determinazione alla menzogna farisea dei benpensanti per superare quella crisi di identità tanto profonda che potrebbe allontanarci dalla realtà esperienza fondamentale secondo Elsa tanto per la letteratura che per la vita. Se l'esercizio della giustizia non dovesse garantirci in tal senso allora in un mondo dove certi processi e certe sentenze vengono tuttora autorizzati dalla legge e permessi dalla popolazione agli scrittori, filosofi o poeti non resta ormai che sollecitare quale unica onorificenza o premio rispettabile d'essere spediti in galera o al manicomio. La difesa del caso Braibanti assorge così a sostegno e giustificazione dell'attività e del ruolo dell'intellettuale scrittore nella società contemporanea senza scadere nel pretesto per una riflessione astratta ma conservando la qualifica di azione come scrive la morante con la sua forza determinante di modificare il mondo reale e la sua storia. Se dovessimo classificare l'intervento di Elsa catalogandolo dicotomicamente tra le scritture apocalittiche o quelle integrate non avremmo dubbi nella scriverlo al novero delle seconde e a leggerlo altresì come l'affermazione di un sentimento corale che nasce dall'espressione di un'intelligenza nella quale l'autrice si identifica e si immedesima. Questi due tratti, la volontà di sforzo in pubblico e la percezione di sentirsi parte integrante di una classe intellettuale che producono quasi una sorta diremmo di engagement di gruppo, sono affatto desueti nelle opere letterarie di Elsa. Per quanto alcune di esse risultino politicamente impegnate penso soprattutto al mondo salvato dei ragazzini alla sua carica rivoluzionaria o alla storia con la sua volontà di denuncia l'autrice applica in tutte il filtro della letterarietà che svolge una sensibile funzione di schermo con il risultato di mitigare l'efficacia del testo sulla realtà e di allontanarlo dalle circostanze della contemporaneità. Inoltre anche quando in queste opere apprendere la parola è un'istanza collettiva come i felici pochi oppure gli umili ignorati e travolti dalla storia con la S maiuscola, quello a cui si assiste è piuttosto un'amplificazione della voce narrativa dietro la quale è sempre ravvisabile l'autrice e non l'adesione ad un cartello formato da singole individualità come nel caso invece della nostra lettera. Evidentemente l'articolo per Paese Sera nasce sotto altri ausplici. Mi rivolgo alle signorie vostre dopo aver assistito ad alcune udienze del processo Braibanti ora concluso e in proposito scusate se approfitto subito dell'occasione per pregare tutti gli italiani di buona volontà, a esempio quelli che tante volte sono accorsi a manifestare contro la guerra nel Vietnam, di recarsi talvolta anche nei nostri tribunali. Conosceranno così quanti Vietnam nel nostro territorio italiano aspettano ancora una liberazione e avranno pure modo di imparare delle cose inaudite. L'emergenza dettata dalla situazione contingente viene subito stigmatizzata nell'immagine iperbolica del Vietnam nel 1968, Paese devastato dalla guerra contro gli Stati Uniti, alla ricerca dell'affermazione della propria autonomia e libertà. Non sono però tanto le libertà civili a essere messe a rischio in Italia, ma è piuttosto la libertà intellettuale che si esprime anche nella diversità dei costumi e dei modi di vita. Questi ultimi sembrano insidiare il perbenismo della morale collettiva. Il reato di Aldo Braibanti, scrittore, poeta e filosofo, consiste propriamente in questo, di aver indotto alle proprie idee alcuni giovani, deviandoli dalla morale tuttora vigente in Italia o almeno presso certe classi della società italiana. È questa morale, conservatrice e bigotta, ad essere tutelata dai giudici e da quelli che Elsa apostrofa come cittadini benemeriti. Già ad altre persone, molto migliori di me, è toccato di subire la morale di quei cittadini benemeriti, i quali poi, da parte loro, potranno andar certi dell'impunità, godendo, a quanto si direbbe, di una speciale protezione della giustizia. Non mi risulta, infatti, che nessuno di loro sia mai stato incriminato per le sue denunce, nemmeno quando queste erano state giudicate inconsistenti e dunque cadugnose dei vostri stessi tribunali. In particolare, l'omerotismo costituisce ancora un tabù nell'Italia degli anni settanta, contro il quale l'amorante si scaglia facendo il nome di personalità celebri, il cui orientamento sessuale è passato sotto un silenzio fariseo. Il premio Nobel André Gide, uno dei numerosissimi omosessuali che si sono altamente distinti nella storia della civiltà e della cultura. Michelangelo Buonarroti, noto anche in Italia specialmente nella sua effigie, che è stampata in miliardi di copie sulle nostre banconote da 10.000 lire a corso legale. La lettera ai giudici di Brebanti, per quanto testimonianza episodica e marginale, è uno di quei documenti che, riabilitati con attenzione filologica, possono contribuire in modo significativo a recuperare la completezza dell'orizzonte della scrittura dei grandi autori. In questo caso, un articolo giornalistico ci aiuta meglio a delineare il profilo di Cives di Elsa Morante, bilanciando quel giudizio consolidato che, forse ha torto, la relega nella sfera della narrativa onirica e visionaria, sentimentale e patetica, anche nelle prove dei romanzi più impegnati come la storia, quasi fosse del tutto estranea alla contingenza del suo tempo. Si aggiunge così un tassello allo studio di una delle più famose scrittrici del Novecento.